Carissimi e carissime, bentrovati a questa prima puntata del nostro viaggio attraverso le rivoluzioni industriali. Inizieremo con una presentazione generale. Possiamo definire rivoluzione industriale una trasformazione profonda nei modi di produzione, una trasformazione profonda determinata dall'affermarsi di nuove tecnologie. Ad oggi gli storici tendono ad identificare tre momenti di grande cambiamento, quindi tre rivoluzioni industriali. La prima inizia in Inghilterra nella seconda metà del XVIII secolo. La seconda prende forma nella seconda metà del XIX secolo, partendo dall'Europa per poi diffondersi negli Stati Uniti d'America ed in Giappone. La terza coinvolge inizialmente i cosiddetti paesi occidentali, vale a dire Stati Uniti ed Europa. Per poi interessare anche il Giappone e, in un momento successivo, anche l'India e la Cina. Ognuna di queste rivoluzioni vede l'impiego di nuove tecnologie e lo sfruttamento di una particolare forma di energia. Come dicevamo, la prima rivoluzione industriale inizia in Inghilterra sul finire del XVIII secolo e si fonda sulla macchina a vapore e sull'uso del carbone. La seconda rivoluzione industriale, invece, inizia negli Stati Uniti d'America per poi arrivare in Europa, nello specifico interessando dapprima l'Inghilterra, poi la Francia e la Germania e solo in un secondo tempo l'Italia. Spostandosi dall'Europa, la seconda rivoluzione industriale arriverà poi anche in Giappone e si basa sul petrolio e sulla diffusione dell'energia elettrica. La terza rivoluzione industriale, invece, inizia negli anni 50 del Novecento, gli anni 50 del XX secolo, ed è preparata dalle ricerche scientifiche portate avanti durante la Seconda Guerra Mondiale. Partendo dagli Stati Uniti d'America, coinvolge le nazioni europee, poi il Giappone, l'India e in ultimo anche la Cina. Quest'ultima rivoluzione industriale si basa sullo sfruttamento dell'energia atomica per fini civili e sull'informatica applicata alla produzione industriale, appunto. Proprio in riferimento alla terza rivoluzione industriale occorre dire che esistono fondamentalmente due modi di interpretarla. Il primo modo la vede divisa in due parti. Con una prima fase, diciamo una parte A, generalmente che va dagli anni 50 fino agli anni 90 del Novecento. Ed una seconda parte, quindi sempre terza rivoluzione industriale, ma seconda parte, che è di fatto ancora in atto e che inizia quindi dagli anni 90 del secolo scorso. Il secondo modo di vedere la terza rivoluzione industriale la fa terminare di fatto negli anni 90, quindi quando il primo modo di vederla faceva terminare solamente la prima fase. Dagli anni 90, secondo alcuni, e io sono tra questi, c'è lo sviluppo di una quarta rivoluzione industriale. In questo modo viene enfatizzato il profondo cambiamento provocato proprio dalle innovazioni tecnologiche caratteristiche di quest'ultima fase. La cosiddetta quarta rivoluzione industriale, o fase 2 della terza rivoluzione, inizia nella seconda metà degli anni 90 e affonda le sue radici nelle ricerche militari portate avanti nei decenni precedenti dai governi statunitensi, nell'ambito della cosiddetta guerra fredda. I più rilevanti cambiamenti sono la nascita di un sistema di automazione dei processi produttivi attraverso l'uso della cosiddetta intelligenza artificiale. Inoltre c'è l'interesse verso la ricerca di fonti di energia rinnovabili e l'interazione autonoma di diversi macchinari attraverso internet. I cambiamenti nei sistemi produttivi caratteristici della quarta rivoluzione industriale vengono identificati dalla sigla Industria 4.0. Prendendo come riferimento proprio questa sigla, possiamo riassumere le rivoluzioni industriali nel modo seguente. Industria 1.0, uso del carbone e macchinari che sfruttano la forza del vapore. Industria 2.0, uso del petrolio con linee di produzione alimentate ed energia elettrica. Industria 3.0, utilizzazione dell'energia atomica per fini civili con produzione di massa automatizzata grazie all'elettronica e all'informatica. Industria 4.0, ricerca verso forme di energie rinnovabili a basso impatto ambientale e produzione con linee di macchinari collegate tra loro attraverso sistemi informatici interconnessi. Non si sottolineerà mai abbastanza che ogni rivoluzione industriale ha portato e sta portando, visto che siamo nel pieno della quarta, cambiamenti radicali non solo nei modi di produzione ma anche nell'organizzazione della società. Si perdono professionalità vecchie, ormai obsolete, cioè superate, e si creano professionalità nuove, legate al nuovo sistema produttivo. Occorre però chiarire che non è detto che la perdita di una vecchia figura professionale sia in un certo senso compensata, almeno da un punto di vista numerico, dalla creazione di una nuova figura professionale. Se, ad esempio, venisse eliminata la figura professionale dell'operaio metalmeccanico in una linea di produzione che ne impiega 100 e venisse a crearsi la necessità di una nuova figura professionale, diciamo ad esempio di un controllore, con l'impiego di 4 unità lavorative, ecco che noi, da un punto di vista di figure professionali, siamo in pareggio. Una ne abbiamo eliminata, l'operaio metalmeccanico, e una ne abbiamo inserita, cioè il controllore. Ma se andiamo a vedere quante persone effettivamente, quante unità effettivamente lavorano, ecco che abbiamo un saldo negativo di 96 persone. Bene, approfondiremo questo ed altri discorsi a partire dalla prossima puntata. Inizieremo concentrandoci soprattutto su quello che è stato, su quello che è stata la prima rivoluzione industriale. A presto!